Noi abbiamo sempre sostenuto che l'itinerario della bellezza fosse un territorio sostenibile, un territorio dove poter incontrare l'Italia vera, l'Italia della cultura, l'Italia della bellezza, l'Italia dell'enogastronomia, in tranquillità e in sicurezza perché sono luoghi dove il distanziamento è naturale. E questo nostro convincimento sta oggi avendo un riscontro con le presenze che vengono assicurate da questi gruppi di turisti. Peraltro nel mese di settembre avremo anche un educational tour con agenzie di viaggio sempre del nord Italia che saranno Trafano, Pesaro, Urbino, Cagli, Mondavio e Pergola per apprezzare veramente l'offerta del nostro territorio. Poi l'Itinerario della bellezza prosegue perché stiamo elaborando e uscendo con il nuovo itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini mentre abbiamo già prenotato il nostro spazio alla Fiera del Turismo Archeologico di Pestum dove saremo presenti anche con la Regione Marche. Il vincitore di questa stagione estiva si può dire che è stato il turismo di prossimità? Sì, questo era evidente. Con la pandemia avrebbe ridotto i viaggi lontano, avrebbe ridotto i viaggi eliminati, i viaggi all'estero. La riscoperta del nostro territorio, la riscoperta dell'Italia era all'ordine del giorno. Avremmo avuto un turismo appunto di prossimità e questo ha consentito a molti marchigiani di conoscere meglio le marche e a molti residenti nella nostra provincia di scoprire le eccellenze del nostro territorio. L'itinerario della bellezza ha contribuito a farle conoscere perché in fondo è l'unica guida presente anche negli uffici di informazione turistica che dà un'informazione su un territorio più vasto che appunto sono i 12 comuni più belli della nostra provincia. E anche il lavoro che è stato svolto, webinar, blog, social, ha consentito di far emergere questa realtà e quindi il turismo di prossimità ha premiato questo territorio.